Sei pronto? Sì, vai! Uno, due, tre! Parara papapara Parara papapara Parara papapara Parara Parara Perché saremo e saremo! Cheap chat Un podcast molto cheap Ciao a tutti ragazzi Bentornati sul Cip Chat Podcast Io sono Kevin E vi presento subito l'ospite di oggi Thomas Ventresca Ciao a tutti Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta finalmente Ce l'abbiamo fatta Finalmente, allora Come stai? Io molto bene Tu? Io dico sempre normale Quando uno mi chiede come stai Io dico normale Tutto bene è molto relativo a chi sta sempre tutto bene Nessuno Esatto, che poi è un po' alla romana Alla romana c'hanno sto vizio che ti salutano Ciao, come stai? E stanno già 30 metri davanti Se ne vanno Ti salutano Oh bella, fra ci vediamo Oh sì, vabbè, sì E io quando mi chiedono come stai in questo modo Dico male E loro In che senso? Bravo, ti sei fermato, vedi? Invece tu dici tutto bene Passa così Io e Thomas ci siamo conosciuti in questa accademia di recitazione che ho frequentato anch'io Perché lui oltre la passione della recitazione sicuramente ne hai un'altra Che dal mio punto di vista spicca come una stella nella notte Vabbè, oltre la passione appunto per recitazione come hai detto tu E anche la passione per l'imitazione, la tv, il varietà in generale, no? E questo da sempre l'ho detto quando stavo in accademia Infatti la prima volta ci siamo conosciuti a Kevin Io, le mie prime parole sono Salve, sono Thomas Ventresca Vengo da Roma e sogno di andare a Sanremo Queste sono state le mie prime parole come mi siamo conosciuti con Kevin Anche a pulire le scale ma io andrò a Sanremo Questa è stata la sua presentazione La prima frase che ha detto è stata questa Nella ritata generale io ho colto il genio Perché la gente l'ha presa a ridere quando ero serio, capito? Quello era il bello Infatti io vi sto per presentare il conduttore del 2000 non so quando Eh sì, l'allero Vabbè io vado prima a pulire le scale Poi vediamo, no? Da pulire a scendere un attimo Partiamo subito Thomas Piccolino Come nasce questa passione? Diciamo che io sono sempre stato un ragazzino un po' diverso dagli altri, no? Ascoltavo musiche diverse Non andavo molto con la moda Io ero un bambino che ascoltava Ornella Manoni Nilla Pizzi I vazzanicchi E mia madre dice Ma tanto cazzo è uscito questo? Cioè A me piaceva guardare varietà di una volta E poi ero molto religioso anche Io da piccolo facevo le processioni Anche io Anche tu Certo Veramente Io facevo il confratello di Sant'Antonio Adoro Da mia nonna mi facevo comprare le statuine delle madonne E andavo in processione per il mio paesino E la gente diceva Oh, andate voto sto ragazzo Sto ragazzo si farà prete Invece no No, mi basta comunque sempre una forte devozione Poi da lì io iniziavo a fare le mie prime imitazioni Che avevo tre anni Non me lo ricordo ma me lo racconta mia madre Dove imitavo un prete del paese Don Peppe si chiamava E io facevo tutta la messa a tre anni Le citavo tutta la messa E al posto dell'ostia davo il pane Ti posso dire Secondo me questa cosa che hai detto è molto interessante Da piccolino anch'io avevo questa impressione Che mi sarei fatto prete A me sono papa pure Ci credevano Pure un vescovo Mi ha detto Tu ti farai papa C'è ancora tempo eh Ancora non ce sa Però Secondo me è una cosa che nei maschietti Da piccolini Dici viene di più? Sì parte un po' come qua Anche perché Tu vedi questa persona sull'altare Che viene osannata letteralmente C'è un po' questa situazione Oh io a casa Sul tavolino In soggiorno Io dicevo la messa Cioè io facevo tutte le cose Sì tutte le sapevo Io convintissimo E poi invece guarda come ci siamo ritrovati E quindi ho iniziato così Poi la vera passione vera e propria Era Sanremo 2016 Quando da quelle scale Scende una grande Virginia Raffaele Mamma mia Io posso dire che quel Sanremo mi ha cambiato la vita Perché io da lì ho capito che Quello Era il mio obiettivo Cioè dicevo Io voglio fare quello E poi ho sempre amato guardare le persone Ad esempio i miei nonni O amavo stare con le persone più anziane anche Perché mi piace ascoltare le loro storie E poi guardare le movenze anche di una persona E riprenderle E da lì ho capito che Poteva diventare il mio mestiere Cioè cerco di far diventare questo il mio mestiere Sono completamente d'accordo Perché come sai anche io mi diletto ogni tanto Sì nell'imitazione Infatti c'è un'imitazione Non so se tu ancora la tieni Quale? Io e Kevin Che cantiamo Brividi Travestiti Da Mahmood E Blanco Signori Non scappare da più Non lasciarmi così Tutti Non lo cogli Brividi Tutti È successo È successo Non so con quanto ha il collo in corpo Ma l'abbiamo fatto È successo È successo Vuoi sapere un aneddoto fantastico su Mahmood e Blanco? Ero in albergo dove lavoravo C'era l'evento di Radio Z a Roma Avevamo un po' di ospiti in albergo Tra cui Lazza Mahmood D'ospiti così proprio Primo velo Arrivano Io stavo lavorando quel giorno Eravamo nella zona del giardino Dove si faceva principalmente l'aperitivo Viene un ragazzo di cui non posso far nome E mi dice Guarda dovremmo preparare un tavolo grande Perché stiamo venendo un po' con l'entourage Tutti quanti In questo entourage Arriva Shablo Saluto Shablo Grandissimo Io inizio a servire i ragazzi Loro super carini Professionale Lassico cameriere Esatto L'unica cosa a un certo punto Io perché mi trovavo Shablo Cioè io mi vedevo la mia infanzia E lì e facevo Ciao Pablo scusami il disturbo Ti volevo dire che io ti seguo da un sacco di tempo Cioè sei un grande Giustamente E lui No vabbè dai grazie Come ti chiami? Iniziamo a scambiare qualche chiacchiera Ma letteralmente così A un certo punto Quando vado a fare il refill dei calici Lui mi fa Kevin senti ma Ma che cosa fai il 4 luglio? Io E Spavoro Capendo Che succedeva qualcosa Che succedeva qualcosa Io ho detto Guarda non lo so Se mi parli del concerto di Blanco Io so che Praticamente quasi sold out No ma dai ma che sold out Ti metto in accrediti e vieni No Io oddio Cioè sono andato al concerto di Blanco Manco una storia emesso No praticamente io faccio Ma che stai scherzando? No 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 garantito Cioè Cioè quindi sei pure sotto al palco tutto? No non sotto al palco Avevamo degli accrediti in tribuna insomma un po' All'olimpico? Sì all'olimpico Allora io do questi nomi E lui fa Dai Kevin non ti preoccupare Tutto garantito Poi arrivano anche Alessandro e Riccardo Cioè Mahmood e Blanco E loro sono stati a fare aperitivo Abbiamo parlato Tutto quanto E tu hai fatto vedere la nostra limitazione? No No Kevin dai però Cioè abbiamo perso un'occasione Ma ti ho detto che sono Potevamo essere i sosia Ti ho detto che sono molto professionale Io poi sono stato per un mese col pensiero Perché io avevo anche dato i nomi di altri ragazzi Che dovevano venire con me E faccio Mamma mia però capito l'ansia Se poi alla fine sti biglietti non ci stanno Vado al concerto Tre ore prima Vado lì Faccio Do il mio nome E quella mi fa Sì sì ecco Ma un sogno Ma un sogno Ma mi sono sentito così importante Ma ci credo Comunque approfitto Non la guarderà mai questa trasmissione Non la sentirà Però io ringrazio ancora Sciabllo Per aver avuto un cuore incredibile Perché non mi conosceva Cioè letteralmente non mi conosceva Avevamo scambiato due chiacchiere Niente di che Un bellissimo ricordo Guarda che a volte proprio così nascono le cose Cioè proprio dal Dalla semplicità anche no Io ho avuto un'esperienza Al concerto di Laura Posini Patonna santa Raccontiamola Posso raccontarla Me la posso tirare un pochetto Dai Ma sono tirata abbastanza È successo in pratica Che io stavo al concerto di Laura Laura è una delle mie più grandi artiste La mia preferita Te lo giuro Io quel concerto Non stavo facendo neanche tanto il pazzo Perché c'è la mia madre Mia zia Mia sorella Il suo primo concerto Ho detto Thomas contieni di Non facciamo figure di merda A un certo punto Mentre cantava tra te e il mare Laura Posini Si ferma E fa Il ragazzo con la maglia bianca Mi guardo Lei Si è tu Io Oddio mio Laura Posini Ma saluta E la finisce No Ho detto Che bello Ho detto Pensate Ma ha guardato Mentre cantava Ma non è finita là Perché poi A un certo punto Durante Dopo un bel po' di canzoni Si era pure cambiata Stavo anche molto a trarre Quindi non è che mi vedeva bene Torna Viene lei E mi fa Eh tu ragazzo Con la maglia bianca Come ti chiami E io Thomas Non ti ho mai visto Da dove vieni Se posso esco Ho acconciato tutte queste cose Ho poi urlato Io mi piace andare a blackout Perché Cioè la mia diva Mi stava parlando Aveva scelto me E quindi È stata un'esperienza pazzesca No è stata un'emozione unica Perché veramente Quando incontri poi I tuoi miti È Non lo so Veramente ti riempie il cuore Cioè poi sono persone Se ci pensi sono persone come noi Però Ti cambiano Ti aiutano Ed è qualcosa di veramente bello Esatto Io ho sempre un po' paura Ti devo dire A incontrare Sì è vero Anche io ho paura di questo Perché molte volte Ti può Cadere un mito Per il carattere Esatto E infatti Ho sempre detto Laura non la vorrei mai incontrare Perché però Pare che è una persona alla mano Quindi Sì cioè Alla fine Pensare di incontrare Un cantante Un attore Un regista Uno qualsiasi In un momento Della giornata In cui magari la giornata Non gli sta andando Particolarmente bene Tu lo approcci Ti risponde in maniera scontrosa Eh sì Magari ti può rovinare Anche sì Quello sì ci sta Però io capisco da persona Che tutti possono avere i momenti no Quindi Sono umani anche loro Come tutti noi Però ovviamente è vero Che quando fai questo mestiere Il tuo momento no Lo dovresti togliere Perché comunque Se io vengo da te Perché io sono un tuo fan Io ti seguo E tu qualsiasi momento no Lo devi far passare per me Eh vabbè Capito? Tranne se ti chiami Paolo Sorrentino Perché che ha fatto? C'è questo aneddoto bellissimo Io lo racconto spesso Stavo andando al mio cinema preferito Qui a Roma Allora stavo parlando al telefono A un certo punto Chiudo la chiamata Arrivo davanti al cinema Mi giro A un metro e mezzo di distanza C'era lui Paolo Sorrentino Infarto Che fumava il sigaro Io adesso la faccio in macchina Per far capire La faccia proprio Io lo guardo come per dire Oddio ma sei te? Lui mi fa così Tipo come per dire Ma che vuoi fa? Credimi Nessuno gli si è avvicinato Cioè quello è andato a vedere un film Io mi ricordo ancora Sei andato a vedere Siccità di Paolo Gerzi In fila Lui stava in mezzo alla fila E nessuno gli parlava Cioè si è creato tipo Quest'aura Di Lasciatemi stare Che ok apprezzo Però sotto un certo punto di vista No Però Vabbè ognuno è fatto come è fatto Beh sì quello sì Poi è anche vero che gli artisti Sono molto A volte Siamo Particolari No? Tornando alla tua passione Quindi L'imitazione Vorrei dire un qualcosa Sull'imitazione Che spesso Non viene detta O non viene capita L'imitazione Anche nel momento in cui Sembra che si stia prendendo in giro qualcuno In realtà non lo è mai No ti spiego subito Faccio una bella distinzione Tra imitazione E caricatura parodia Allora io penso che L'imitazione Quando uno va a imitare La sappiamo fare tutti No? La voce Quindi chiunque riesce a imitare La voce di qualcuno Quello che Da qualche anno Sto cercando di fare io È proprio andare a Fare una parodia A una caricatura di qualcuno Che è ben diversa Perché tu Non studi solamente La voce di quel personaggio Anzi molte volte È l'ultima cosa che studio Di una persona Anche che conosco Io vado proprio a vedere La sua anima Cioè io mi immagino Quello che può fare Quella persona E come lo può fare Quindi è tutto poi Un'immaginazione Che molte volte Poi è vera Cioè ho visto molte volte Con bacio Anche quando li facevi I professori in action Che salutiamo Tutti i professori Cioè mandavo dei video Che erano surreali Comunque facevi una caricatura Di tutto quello Che loro Fanno Però alla fine Che in effetti Lo fanno davvero Poi vorrei sottolineare Che l'imitazione È una forma di ammirazione Sotto un certo punto di vista Assolutamente Io Anche imitando Io Mi concentro più Tu lo sai Sulle persone comuni Non vado a Fare imitazioni Di gente troppo famosa Perché Diciamo Non seguo anche troppo La televisione Quindi non lo faccio Però non andrei mai Imitare una persona Che non mi piace Non mi sta simpatica Nemmeno io Infatti quando tutti C'è stata gente Anche in passato Con i professori Delle superiori Perché poi ho iniziato lì Professori che Se la sono Tra virgolette Presa Eh capito Però io ho sempre spiegato Che non se la devono prendere Perché se io imito qualcuno È perché mi piace Qualcosa di qualcuno Se per me Tu non sei niente La mia attenzione Non ricade su di te Quindi Non ti posso imitare Cioè infatti Quando molti mi dicono Oh mi imiti Mi fai la mia vita Come faccio io Non lo so Cioè non è che so Che così te la faccio Cioè io ti devo studiare Poi magari c'è Una persona Che non ho mai pensato Di imitare Ma un giorno Mi fai una piccola cosa E là mi si apre un mondo E dico Non t'ho mai visto così Eccoti E da lì Nascono poi Dei momenti belli Dei momenti bellissimi Esatto Io a tal proposito Intanto Per il fatto che Tu non devi mai perdere Questa cosa che hai Che è una cosa bellissima Io ho chiamato Una persona Per farti salutare Ma veramente Sì Lo vediamo insieme Ho capito Ma io sto Thomas Non mi ricordo Cioè che ci ho fatto Ci ho fatto un film Ci ho fatto qualcosa Non mi ricordo proprio Poi doveva andare in onda Su Chips Chaps Che è Chips Chips non vuol dire patatina Che è un programma por Ah siamo in onda Eccoci Allora Ve mando un saluto Da Sabrina E Taci vostra Allora Thomas A Kevin A tutti e due Io Thomas L'ho incontrato E E certo Che l'ho incontrato E me lo ricordo bene Quando l'ho incontrato L'ho incontrato A Poltroni No Non t'ho incontrato A Poltroni Sofa No Anche perché Poltroni Sofa Erano 5 zigomi fa Ne è passato di tempo T'ho incontrato A Tu si che va No Manco a tu si che vale Sau Marrendo Non mi ricordo Do t'ho incontrato Però L'importante È che ci siamo incontrati No Come dico sempre io Non è importante Do s'è fatto Ma che si sia fatto È Un bacione Ci vediamo Ciao 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 Ma io non mi ricordo proprio Poi Te chiamano Ti dicono Mi mandi sto video Che forse Magari ci siamo visti Pure al bagno Dell'autogrill Sera stata una botta E via È che ne so io Ok scusa È una situazione un po' Tu mi avevi detto Che la conoscevi Sabrina però Sì vabbè Ma non si ricorderà Lei Ci siamo visti Non nell'autogrill Però ci siamo visti Ok Ciao Sabrina Salutiamo Sabrina Ok vabbè Non può ricordarsi tutti Ovviamente La testa va anche nel camerino Stava anche nei Sì Non si può ricordare tutti Però ci conosciamo Allora Ci tenevo a fare questa puntata Su Sanremo E non avrei potuto farla Con nessun altro Se non con te Quindi tu mi stai dicendo Che adesso parliamo di Sanremo Esatto Adesso noi parliamo di Sanremo Adesso noi parliamo di Sanremo Adesso noi parliamo di Sanremo Il bambino più felice del mondo Io sono molto legato al Festival di Sanremo La persona che però secondo me è il Festival di Sanremo Sì Sono Sanremo Piacere Ve bene dico È Thomas Cioè Allora tu sei sempre stato incredibile Era super informato Sapeva tutto Ma poi Una dedizione Una passione per la musica Perché non è solo L'appariscente mondo di Sanremo Ma è soprattutto la musica Sì Sanremo è tutto Come mai sei così legato Al Festival di Sanremo Sanremo è un amore che è nato Non so spiegarti com'è nato Cioè perché Per me c'è sempre stato Nella mia vita E a casa mia Nemmeno era tanto visto Non è che tu dici Oddio c'avevo Mamma, papà Che se lo vedevano Cioè sì Mamma lo guardava Papà è molto contrario Perché non gli piace Tutto questo mondo televisivo Dice che è tutto falso Tutte queste cose No Quindi io È nato tutto da Un Festival di Antonella Clerici 2010 Ok Conduceva Antonella Clerici Vince Valerio Scanu Da quel Festival in poi Inizio a ricordarli E piano piano Da lì è nato Questo amore Folle Che veramente per me È una passione Cioè nel senso Io per questa settimana Che è iniziata Adesso Quindi adesso ti do Questo lunedì Ma io da domani Sarò rinchiuso dentro casa A guardare solo Festival Cioè dalla mattina Inizio con Storie Italiane E il programma Quello di Caterina Balivo Sì tu sei molto impegnato Poi ci sta la vita in diretta Cioè a me non mi puoi nemmeno Chiamare a un certo punto Perché sto talmente impegnato A vedere tutto quello che succede Che mi chiudo È una settimana santa Se ti dovessi chiedere La canzone di Sanremo Non che più ti ricordi Ma che magari più ti rappresenta O a cui sei più legato Lei sarebbe Allora io ti posso Cioè io Allora Ogni volta Che Arriva questo momento di Sanremo No In televisione Vengono sempre ricordati Tutti i vari Sanremo Quindi anche quelli che non hai visto È un po' come Se li hai visti No E c'è Un'esibizione Che a me Ogni volta che la fanno rivedere Mette la pelle d'oca Sempre Che è almeno Tu nel universo Mia Martini Eh vai Mia Martini A parte in generale Mia Martini Mi ha sempre emozionato E tra l'altro Consiglio di vedere Un bellissimo film Non so se tu l'hai visto Che si chiama Io sono mia Certo Beco Serena Rossi Stupendo Che parla proprio di Quando lei è andata Con almeno tu nel universo Raccontando tutta la sua storia Precedente Tutto quello che Questa povera donna Gli è successo Si vede anche La sorella L'amicizia correndo Con Loredana Con tutti Allora a proposito di Loredana Eh Tu non puoi capire Che è successo Io ho un messaggio per te Da Loredana Loredana ci ha mandato Un video No Che lo vediamo subito Ciao Kevin Sono Loredana Per te Penso che mi hai riconosciuta Allora Te voglio dire una cosa Che Quando veniamo al tuo podcast No? Con Thomas L'abbiamo anche parlato E usciamo da questa situazione Io da te Vorrei cantare La mia canzone di Sanremo Pazza Perché C'ho più voglia Di andare a Sanremo Quindi Vengo da te La canto da te E stiamo a posto Almeno così Mi squalificano Che ne dici? Te può piacere A te come idea? A me mi piace Fammi sapere Un bacione Ciao Da Loredana Ciao Ciao Come se chiude Stesso coso Io con tecnologia Ce so fare Dovremmeno qua Questo bottone Ciao Kevin Ciao Pazzesca Loredana Pazzesca Non vedo l'ora È un po' pazza Un po' pazza Beh come dice la canzone Giustamente Io non vedo l'ora Di vederla Te lo posso dire Secondo me Spaccherà Su quel palco Su quel palco Quest'anno Più degli altri anni Vai Quotazioni Secondo te Chi vince Sanremo Ah eh Vabbè Chi vince È un parolone Allora Beh abbiamo Tantissimi artisti Di amici E Beh Non lo so Guarda Sono tanti bravi Quest'anno Capito Mentre gli altri anni Ad esempio C'erano Mammo de Blanco No Nel 2022 Beh Che tu dici È un'accoppiata Che vince L'anno scorso C'era Mengoni Mengoni Dice impossibile Che non vince Mengoni Quest'anno Io ho fatto Dei ragionamenti Sempre perché Faccio anche Il Fantasarremo Piccolo appello Per chi fa il Fantasarremo Hai fatto la squadra? Sì Ok Ce l'hai anche tu? Sì certo Allora facciamo un'altra lega Adesso ne parliamo Fantasarremo Ragazzi Una squadra Si fa Per il Fantasarremo Come una? Sì dovete credere In una squadra No Non li sentite Io ho messo un po' De tutti Ma no Ma non si possono fare Cinque squadre Ma che è sta roda Ma se lo permettono Vuol dire Se tu sei un grande capitano Devi avere una sola squadra Però è anche vero Che il Fantasarremo È qualcosa di molto Cioè non ti puoi basare Su niente Capito? Perché è tutto Molto imprevedibile Allora io ho fatto Una piccola strategia Quest'anno Io ho preso Gio Lier E Angelina Mango Beh Due pezzoni Le ho presi principalmente Per i punti Sul podio Perché secondo me Sono due che arriveranno Sul podio In primis Perché Gio Lier Faccio questa nota Per Gio Lier Che porta finalmente Un pezzo In napoletano Tutto in napoletano Cioè è solo una frase In italiano Una Tutto il resto è napoletano E poi Angelina Mango Tu mi puoi credere Che io Ho sviluppato un amore No Io quella donna Allora Tu mi puoi parlare Di figli di papà Perché adesso Stanno andando già Queste voci Di nuovo sui social Eh ma lei è famosa Perché è la figlia Di Mango Che tra l'altro Grandissimo artista È stato Ma pure se fosse Ma che tu ti caffa Cioè hai visto Che cavolo di voce C'ha quella ragazza Che carisma Pure se sei figlia d'arte Vali Te lo meriti Di stare su quel palco E te lo meriti Di vincere Esatto Io faccio sempre Questo discorso Cioè Angelina Mango È la figlia di Mango Tu hai un determinato Peso sulle spalle Però è una ragazza Che è cresciuta Sì figlia di due cantanti Il fratello cantante Sono tutti cantanti Quindi quella Se è dovuta fare il doppio Tecnicamente Sì la voglia Ma vuoi che c'avevi l'arte in casa Però da quella A farti poi un nome Ci vuole Ci vuole E lei lo sta facendo molto bene Anche perché farsi Un suo nome Perché rimane sempre quel Mango Mango Ti riporta sempre a tuo padre Invece lei sta già entrando Nel fatto Quando parli a giovane Specialmente chi è Angelina Mango Si ricordano Angelina? Più che altro Anche perché Mango È molto poco ricordato E questo è un grande peccato Purtroppo sì Perché è stato un grandissimo artista E viene poco ricordato Dalla televisione Dalla musica italiana Esatto E non vedo l'ora Di vedere su quel palco Una cover Che lei porterà del padre Che è la rondine A proposito della rondine Cioè Tu pubblico X Come ti viene in mente Di dire a quella lì Eh quella Mo' porta la canzone Del padre Capito Questi commenti so Che ti fanno Diretto Dici ma In che mondo viviamo Allora Primo che te frega Secondo Mi sono informato Perché io non è che la seguivo Dagli inizi Perché amici Non lo sto più seguendo Maria perdonami Però Perdonalo Maria Non sa quello che fa Però c'era questa questione Che lei non aveva mai portato Nulla del padre E io qui dico Mai Che a maggior ragione È una ragazza Che si vuole fare da sola Però permetti Che una ragazza Una cantante Arriva su un palco importantissimo Come quello di Sanremo E vuole ricordare suo padre In una serata così importante È giustissimo Cioè Però tu dici Eh perché vuole vincere facile Non è vincere facile È voler emozionare Perché veramente Io lo dico qua adesso Siamo a lunedì Venerdì arriverà la serata delle cover Io penso che tutti i social Piangeranno davanti A quell'esibizione La rivedremo sempre nella storia Perché sarà un momento Mo vado a un francazzo Guarda Che è successo Brividi No no È veramente Poi la farà in una versione acustica Con gli archi Quindi sarà un momento Poi nella voce Pazzesca Quindi un momento Impressionante Poi ci porterà dalla noia Che è un pezzo dove si balla E si canta a manetta A un pezzo che ti fa venire i brividi Quindi veramente io penso che Angelina Ha tutte le carte in regola Per giocarsi bene questo festival Sia dal pezzo Da come ne hanno parlato i giornalisti Perché ovviamente io non li ho ascoltati E sia Ah non li hai ascoltati No purtroppo no Perché ho sentito Ah ma è molto impegnato Ok Te li faccio sentire Non li ho ascoltati Vabbè lo ringraziamo Però comunque abbiamo anche Io penso Quest'anno È la volta buona Che vinca una donna È l'anno giusto È l'anno giusto Abbiamo tante donne Forti Abbiamo Annalisa Che è la donna più certificata Fimi Annalisa Che è pazzesca E c'ha un pezzo pazzesco E per dirlo ai giornalisti Che di solito buttano merda su tutti Sì Vuol dire che è veramente un bel pezzo Dico non è a pari di Bellissime Mon Amour Ma è normale Anche perché Bellissime Mon Amour Sono entrate nel Cioè nella storia Per Annalisa Sì ma sono fatte anche per radio Qui stiamo parlando di altro Però sarà un Sanremo molto radiofonico Molto molto Questo sì ma secondo me È un po' la linea che sta prendendo Amadeus E il problema è che è l'ultimo anno E quindi sarà la fregatura per chi verrà dopo Lui dice che è l'ultimo anno poi Amadeus Allora Non ti crediamo Non sappiamo se è l'ultimo anno Però io Abbiamo parlato di Angelina Abbiamo parlato di amici Io un saluto per te da Da chi? Da una persona importante No mi dì Maria No Kevin no ti prego Guardiamolo insieme Ciao Thomas Ciao Kevin Allora so che state parlando di Sanremo Vi voglio dare una notizia Che quest'anno Sanremo sarà vinto da un ragazzo di Amici Io ho schierato i migliori Sono molti anni che Amici non vince Sanremo E quest'anno uno di loro lo vincerà Inoltre l'anno prossimo Amadeus se ne andrà E saremo diventerà mio Sarà tutto mio La televisione italiana avrà solo un nome e un cognome Che è Maria De Filippi È chiaro? Vabbè Comunque Veramente sarà Secondo me un Sanremo molto Dance Tantissimo Non vedo l'ora anche di ascoltare Emma Perché Emma porterà un pezzo completamente diverso Sì Dai soliti E anche Fiorella Mannoia Io Fiorella Mannoia ho il terrore Cioè la voglio ascoltare e non la voglio ascoltare Perché io adoro Fiorella Il periodo è quello di che sia benedetta Tu non ti piace Fiorella? Ti piace? A voglia Però sarà un'emozione completamente diversa da che sia benedetta Da come dicono Perché è un pezzo molto zingaresco Molto con melodie latine Ah Sì Può anche un po' andare a far capire il perché della scelta di portare Gabbani con Occidentali Scalma Quella invece l'ho trovata una cosa che non mi è piaciuta molto Anche perché è stata copiata un po' da anche Giorgia Elisa dell'anno scorso Io da Fiorella mi aspettavo una bella cover come lei le sa fare Perché Fiorella se vuole rientrepetare una canzone Ha fatto anche un album adesso con tante cover Fa venire la pelle d'oca su tutto Qualsiasi cosa canta Fiorella diventa poesia Quindi ricantare una canzone su Occidentali Scalma Ecco Concentrandoci sulla serata delle cover Perché forse è quella su cui possiamo esprimere più opinioni Conoscendo le canzoni che si porteranno Scelte bellissime Come quella di Angelina di cui abbiamo parlato Scelte pessime Posso dire Renga e Neck bocciati Ma Renga e Neck bocciati in tutto da quanto sto capendo Voi dei giornalisti per la canzone Renga e Neck mi sa che faranno un... Poi magari non è così Poi vedremo Vedremo Perché mai dire mai a Sanremo Perché i giornalisti possono bocciare tutti E poi la canzone è bella per altre persone Però in generale anche la scelta di portare pezzi loro San Giovanni che porta Farfalle Cioè Sangio No Mi ha stupito molto Emma Che porta Bresch Sì E Tiziano Ferro Strano Lei ha questo momento molto Tiziano Ferro Perché anche con Lazza l'anno scorso ha portato La fine Esatto Filippo Irama Che porta Cocciante Allora Dico subito una cosa Io adoro Cocciante Io adoro Irama La canzone è stupenda Quando finisce un amore Ma vuoi mettere per le voci che hanno loro due Se avessero fatto Margherita? Io penso che Irama ha scelto proprio Quando finisce un amore Perché ha un collegamento con la sua canzone Ah ok Ok Perché tu no parla appunto di un amore finito E tra l'altro sarà un Irama completamente nuovo Dice lui Dice che è una delle sue canzoni più emozionanti Quindi Sarà emozionante ovunque sarai Pensa questa Io piacevo ovunque sarai Madonna ovunque sarai E parte urlando Da quanto ho capito Ah Che la canzone parte così Proprio bella spinta Arriva a note altissime Ok E quindi darà tutto se stesso Quindi anche Irama Che nessuno ne sta parlando Però No no Io confido molto su Irama Un'altra esibizione molto simpatica Che potrebbe meritare davvero Per la serata delle cover Non gli avresti mai detto Gazzelle che con fulminacci Fanno notte prima degli esami Ci sta Però posso dire Che potrebbe passare un po' Non lo so Sotto tono No Ci hanno un bel seguito loro E sinceramente Loro che adesso sono un po' No La musica indie La musica dei giovani Portare un pezzo come notte prima degli esami Anche fuori da Sanremo Quelli riporteranno Ovviamente se quel pezzo poi uscirà Esatto Poi uscirà Come singolo Come molti adesso fanno Perché funziona così Funziona magari Capito Ti trovi adesso che In futuro I ragazzi che faranno la notte prima degli esami Non avranno venditti Ma ci avranno gazzelle Fulminacci Andiamo bene No però è una bella cosa Sì 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 È bello quello Cioè vai un po' a rivisitare queste cose E dici Oh Stai facendo una bella cosa Nonostante tutto Invece sai che Secondo me Farà Un bel Sanremo Anche sarà ben scoperta Oltre a Rosvillen Rosvillen Anche Big Mama Sì Secondo me sì Io ce l'ho a Fantasarremo Beh Big Mama Forte secondo me lei E sarà Molto bello vederla E inoltre ha scelto Una cover anche Che è Moulin Rouge Che poi si è portata Sissi Gaia Cioè ci mancava solo E l'Od E sfondavano L'Ariston Queste Cioè pensa Proprio tra amiche Sissi che parte con No lei C'ha C'ha una bella Attitude Devo dire C'ha un bel carattere C'ha una bella Cazzimma Ecco perché Tornando al fatto Delle donne Ci sono delle donne Molto particolari Passatemi il termine Particolari Perché sono tutte Molto caratteristiche Hanno tutte Molto carattere Partendo da Fiorella Mannoia Che è sempre stata Una grande diva Capito Ha la più giovane di tutte Che è Angelina Mango Che ha una personalità Fuori dal comune Non c'è una donna Che non ha personalità In questo Sanremo Non c'è veramente Forse più degli uomini Si parla ancora poco Di Mahmoud Che Mahmoud Lo stanno tenendo Molto nell'angolo Mahmoud Ogni volta che va Sanremo vince Tutta gold Tutta gold Una soldi Nuova dicono Quindi chi lo sa Pure di Mahmoud I Negramaro Dicono che hanno Un bel pezzo I Negramaro Sai com'è Che uno si sta concentrando Molto sulle donne Però poi vai a vedere gli uomini E dici Cavolo però ci sta pure questo Ci sta pure la roba Ci sta pure quello È tutto così Non è che tu dici C'è un nome Che ti focalizzi su quel nome Perché poi Loredana D'arriva con pazza Che dicono Che è un pezzo fortissimo Con lei con i capelli blu Che comincerà a dire Prima ti fanno Prima ti dicono Che sei pazza E poi ti fanno santa Cioè pensa che frase Prima ti dicono Che sei pazza Poi ti fanno santa Che è la verità È quello che è successo a lei Perché Loredana è stata sempre Criticata Sempre messa un po' all'angolo Poi lei è stata forte Che è andata avanti E mo' tutti che la usano Andano La grande Loredana Per te Però tutto è passato Ferite sulla schiena Ferite sulla schiena Sempre ha avuto Loredana Poi che lei è una tigre E non si è fatta mai abbattere Un'altra storia Però pure lei ha fatto Le sue trasgressioni Cioè nel senso Quello è giusto Ma che il suo modo di essere Capito Logico Logico Io ho una sorpresa per te Un'altra Ma che me fa Ma che caramba Che sorpresa Raffaella Carrà È diventato sto podcast Purtroppo Raffaella Non ce l'ho Purtroppo Raffaella Per ovvi motivi Però dato che oggi è lunedì Noi come sappiamo Fino a sabato C'è Sanremo Sì Ma poi domenica No Cioè c'è la zia Mara La zia Mara nazionale C'è la zia Mara Che ci ha mandato un saluto Vediamo Amori di zia E che non ve lo mandavo Un saluto La zia Mara E bistecconi Della zia Io sto qua Ai camerini De domenica in Che entra un po' Vado in onda Che ormai la mia Più che una domenica in È diventata Una domenica in Pss Ci stanno più vecchi Qua da me Che dentro Un centro anziani Pensate voi Amori di zia Ve mando Un bacione Ve voglio tanto 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 bene Lo sapete E vi aspetto A domenica in In Sassarremo Mi raccomando Venite ma a trovare Un bacione Ciao amori Ciao Io l'adoro Posso fare un applauso A Mara È un amore Mara Mara io ti amo Sei la mia vita No ma domenica in Partiamo Andiamo Vieni Ci hai invitato Partiamo mercoledì però Sai che facciamo Ci vediamo Martedì Mercoledì Andiamo lì Venerdì Ci vediamo le cover Sabato Ci vediamo la finale E Mara Siamo da te Bacione Ciao Mara Allora abbiamo detto Che forse potrebbe essere L'ultimo Di Amadeus Speriamo di no Fiorello spera di sì Fiorello vabbè ma perché Fiorello poi sa che Toccherà pure a lui ancora Se l'anno prossimo Esatto Andrei a parlare un attimino Della scelta dei co-conduttori Ti posso dire Mi piace Molto Molto È molto variegata Non si è concentrato su Oddio faccio tutte i cantanti Faccio tutto di questo C'hai Marco Mengoni Pazzesco È bello vedere anche Giorgio Nella versione conduzione Lorella Che è pazzesca La cucca Sparaci una notte e vola Ti prego Lorella Non vedo l'ora di star là Le due di notte a favola Con quanto sicuro Perché la vanno usci tardi Che poi anche il fatto Che c'è la cuccarina Posso dire Vuol dire che Maria Si sta intrufolando davvero Maria sta entrando piano piano Nel festival E si prenderà tutto Da non sottovalutare anche Teresa Teresa che sarà bello Vederla su quel palco Anche perché è un'artista Che non è stata molto Messa in luce In questo periodo È stato TikTok A ridarle Tanto successo Veramente Secondo me è forte Lei è proprio brava Fa tanto ridere Mi fa tanto ridere E quindi Farà molto ridere Secondo me anche a Sanremo E poi Fiorello Vabbè Fiore è fiore Fiore ti si ama Fiore ti si ama C'è uno showman completo Che riesce a fare tutto E hanno superato Dei momenti Molto bui Anche lui E Amadeus Pensiamo al Sanremo 2021 Madonna C'è Fare un festival Senza nessuno davanti Avere La stessa energia Cercare di far ridere Per sei ore Ti posso dire E lì è difficile Perché tu non Non devi solo dare Un'energia a te A tutti Sai cosa Gli ha aiutato Secondo me molto Anche la radio Loro vengono dalla radio Sì Quello sì Però se pensi Tu hai in mano Tutto Sanremo Quindi anche Il fatto di valorizzare Il lavoro di un elettricista Pagato Tu stai pagando Una persona Per fare il suo lavoro Però uno potrebbe anche Di Vabbè ma io sto a fare Sto lavoro Cioè non guarda nessuno Qua lo trasmettono Solo in televisione Invece secondo me Loro erano strabravi Sono stati bravissimi A dare la motivazione A tutti Cantanti Addetti Tutti quanti Quell'anno però 2021 Gli ascolti Non andarono molto bene Si aspettava molto di più E infatti uno ha pensato L'anno prossimo Non c'è Amadeus Però Amadeus è stato salvato Dal fatto che i Manesky Vinsero l'Eurovision Eh sì Quindi quel Sanremo Non andando bene Negli ascolti Andò benissimo Con le vendite E infatti però L'anno dopo poi Tornò il Sanremo Brillante Anche di ascolti Per Amadeus E che ancora oggi Va avanti Verissimo E lui ha portato i giovani E questa musica nuova Di Sanremo Perché adesso Sanremo Non è più la canzone Sanremese Cioè quest'anno Non vi aspettate Canzoni Sanremese Ci saranno pochissime Della classica ballad La classica storia Storie d'amore Sì Però tutte Pompompon Quindi è cambiato Sanremo Con Amadeus Poi ha fatto proprio così So a favore Amadeus ha fatto Un qualcosa di veramente difficile Ha avvicinato Tantissimi giovani A guardare Sanremo Perché Sanremo Si era perso Io mi ricordo Quando vinse Gabbani Io nella mia cerchia di amici Ero uno degli unici Che guardava Sanremo Più che altro Sai cosa succedeva Quel periodo C'erano i super ospiti Tu quando erai Il periodo di Sanremo Dicevi Chi c'è come ospite Non pensavi a chi c'è in gara Vero Si pensava all'ospite Perché poi ti portava Tipo Carlo Ha portato Laura Pausini Tanti ospiti Famoci Tutti questi che adesso Vanno in gara Non Laura Ciao Laura Però tipo Giorgia Elisa Quindi Amadeus Ha portato i suoi big Che non c'è bisogno di Oh cioè adesso infatti Quando lui annuncia gli ospiti Cioè Non ti sorprendono nemmeno Non ti sorprendono nemmeno Perché a parte non fanno parte Del mondo della musica Ma perché tutti i più importanti Stanno là Cioè se adesso vivevamo Un Sanremo di Carlo Conti Annalisa sarebbe stata un ospite Si Capito Non sarebbe mai stata una In gara Oppure anche una fiorella mannoia Andava come ospite Perché funzionavi di più come ospite Ti mettevano pure nel giusto orario Capito Tu porti il mio pezzo C'è il giusto orario Vai sono ospite Era meglio Invece è così Adesso sono tutti a pari E anche la scelta magari di Perché quest'anno La classifica non Sarà data in terra Lo sai? Si 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 Sanno date solo le prime Dieci posizioni Nella prima puntata E questa è una grande novità Comunque Una grande novità Giusta Sbagliata Non lo so Vedremo Vedremo Però perché il fatto Comunque bisogna Può pensare che saremo È una gara Cioè anche il brivido Della gara ci deve essere Però vabbè Già che mi dai Le prime dieci posizioni E poi le altre puntate Le prime cinque Ci può stare Avete visto È anche un modo Per non demoralizzare Magari il cantante in gara Quello sì Quello ci sta E non fa perdere Magari l'aria di festa Esatto Perché comunque Deve essere una festa Della musica E poi quest'anno Novità Cioè abbiamo tutti i cantanti La prima sera Questa è una gran cosa Ti posso dire Sarà una lunga serata Una grande serata Cioè tu parti già il martedì Che stai con gli occhiaie Fino qua Però C'hai già un'idea Di tutto quello che è E poi anche giusto Per le vendite no Perché infatti Era un po' svantaggiato Chi cantava la seconda sera Perché comunque Tu la prima sera Non sembra Ma è tutta una giornata Già in radio Del tuo pezzo Vero Quindi Erano avvantaggiati Chi usciva la prima sera Rispetto a chi usciva la seconda Invece così Sarà un casino per noi Perché ascolteremo Trenta canzoni In sei ore Quindi Non ne rimarrà Quasi nessuna In testa Però almeno Il giorno dopo Già le hai tutte Che puoi trasmettere Riascoltare Non devi aspettare Un'altra sera Quindi è una buona cosa Questa Verissimo Vai allora Prima di chiudere la puntata Thomas La tua top 5 Chi arriva sul podio Allora Top 5 Angelina Irama Alessandra Amoroso Mahmood E cavolo Sono troppi Non mi entrano Vabbè Ti dico il cuore Chi vorrebbe il cuore No Cuore Fiorella Pure Loredana Sono pochi Cinque Amadeus Fammi vincere Cinque persone Quest'anno Magari quest'anno Non si farà niente Tutte le canzoni Fanno schifo Aspettative Sarà impossibile Sarà impossibile Veramente Guarda che Io Te lo dico Non ho mai avuto così tanta difficoltà A poter dire Cinque persone Che mi piacciono Che possono arrivare No anch'io Anch'io Proprio difficile Come la tua? Allora io ho Angelina Ok Jolie Ok Cioè secondo me Loro Tipo Da prima e secondo Roba del genere Irama Maninni Guarda sai che me l'aspetto pure io qualcuno di questi Che fa un colpone Tipo Mr Rain Che ha fatto l'anno scorso E poi ti ci metto i Negramaro Eh Negramaro pure Perché è una bella novità i Negramaro a Sanremo Cioè una bella spinta Cioè hai la voce di Giuliano che Cioè capito? Poi dicono che è pazzesca anche nel pezzo Dicono Sì E quindi ciao Che è una grandissima bella ballat Kevin È stata una puntata di Sanremo difficile Parlare di questo Sanremo è veramente difficile Non lo potevi fare l'anno scorso Era più facile Diciamo Marco Mengoni Siamo a posto L'anno scorso purtroppo non c'era Cip Chat Da domani però Sapremo tutte le canzoni E non vedo l'ora Non vedo l'ora Io come un bambino poi mi sento capito? Cioè vado a casa Vado a vedere la video in diretta Perché già iniziano a parlare da oggi La settimana santa inizia il lunedì Poi oggi è il pre-festival Pre-festival Quindi seguiteci, ascoltateci Anche a noi per questo pre-festival Così domani vi correte meglio il festival Allora io ringrazio Thomas per essere stato con noi Grazie a te che mi hai invitato E che mi date il permesso di parlare di Sanremo Assolutamente Questa puntata Come potete vedere È una puntata un po' diversa dal solito È più una puntata molto gossipara Ma sì così Un po' tipo un talk show in televisione Come se ci fosse Mara Venier Magari Barbara Dursi Barba Eccomi Allora Quindi come potete vedere La puntata cambia in base anche all'ospite che c'è Ma io sono davvero contento di averti avuto qui Perché uno È stata una puntata super divertente Super stimolante Tanti ospiti Tanti ospiti Tanti ospiti E poi A me su Sanremo piace far gossip Ce la faccio Cioè Perché Sanremo è Sanremo Perché Sanremo è Sanremo La Sanremo è tutto È anche questo È il gossip È il parlare male È il criticare quello È criticare quell'altro La settimana Santa La settimana Santa Sanremese No Santa Perché magari quella è la La settimana Sanremese Che è come la settimana Santa Uguale Che tutti Anche se non vogliono Perché quelli che diffidano il festival Comunque sempre che leggono qualcosa e lo guardano E comunque ne parlano E ne parlano Sanremo è italiano E bisogna portare l'orgoglio di avere Sanremo Perché è uno dei festival più storici Non ho detto bene storici Al mondo quasi E poi posso dire In questi casi Essere nazional popolare Va bene Ma sì Ma dai Ma non critichiamo sempre queste cose Perché se lo vedono tutti Allora no Lo devo criticare Capito Non perché non ti piace Ma perché lo guardano tutti Perché lo guardano tutti E quindi tu lo no Io sono quello più Amore no Infatti non lo guardo Io ringrazio voi per essere stati con noi Vi invito a iscrivervi al canale Mettere mi piace al video Solo se vi è piaciuto Se no Però se no non mettete Non mi piace Perché dai A parte che me l'ha tolto pure YouTube Quindi mettetelo pure Tanto non lo vediamo Seguirci sulla nostra pagina Instagram Seguire anche Thomas Così potrete vedere un po' il suo percorso Le sue imitazioni E niente Vi mandiamo un bacione Buon Sanremo Grazie a tutti Pararam Oh Thomas Io direi che è venuta Oh Si aspetta l'autobus Quando Sanremo Vieni con me Eh Dammi insieme Eh Eh Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.